Una buona serata, seconda edizione del nostro telegiornale che apriamo con la cronaca perché i carabinieri del comando provinciale di Pescara hanno sequestrato tre chili di droga dopo un blitz effettuato in un appartamento trasformato in una serra per la coltivazione della marijuana. Tutti i particolari nel servizio di Paolo Renzetti. Vediamo. Una centrale della droga con serra e i tech per la coltivazione dello stupefacente Sita nella zona di Pescaracoli è stata scoperta nelle ultime ore dai carabinieri della locale compagnia che hanno tratto in arresto nella flagranza del reato di coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Francesco Paolo Armino, trentenne pescarese. I carabinieri hanno recuperato oltre tre chili di droga. L'attività è stata condotta in maniera vecchio stile quindi con la conoscenza del territorio e dei personaggi. Non sono state utilizzate attività tecniche o altro. I canali di rifornimento purtroppo sono tanti e sono numerosi e nonostante si cerca sempre di colpire i traffici si sviluppano spesso e volentieri nuove rotte quindi anche in questo caso ancora dobbiamo approfondire le intagini. Sospettiamo che possa essere giunto attraverso una gomma. Infatti abbiamo rinvenuto all'interno dell'abitazione una ruota di una macchina tagliata. Quindi verosimilmente l'hashish contenuto all'interno di palloncini era stato celato all'interno di una gomma di autovettura. Questa è una modalità che anche in passato è stata riscontrata. 50 azioni eversive in 13 anni di attività e questo è il bilancio dell'attività del gruppo anarco insurrezionalista FAI, Federazione Anarchica Informale che gli investigatori hanno tracciato a conclusione dell'indagine condotta dalla Digos di Torino in collaborazione con quella di Pescara, di Viterbo e di Roma. Sette gli arresti scattati all'alba di questa mattina che hanno interessato anche la nostra regione, in particolare la provincia di Pescara dove risiedono due dei componenti del gruppo anarchico. Si tratta di Danilo Cremonese, 40 anni, e Valentina Spezia che convivono in un appartamento di Montesilvano. L'inchiesta coordinata dal Servizio Centrale Antiterrorismo della Polizia ha permesso di ricostruire l'attività anarchica che, secondo gli investigatori, era finalizzata a colpire anche uomini politici. È stato attribuito al FAI il pacco bomba, ad esempio, recapitato a Romano Prodi e il plico esplosivo destinato al quotidiano La Stampa nel 2003, oltre all'attentato al Tribunale di Civitavecchia di quest'anno. E si è avvalso invece della facoltà di non rispondere Felice Ferrazzo, il boss dell'Andrangheta arrestato a Termoli dai carabinieri della compagnia locale nell'ambito dell'operazione della Procura Distrettuale Antimafia dell'Aquila. Isola Felice, il servizio di Fabrizio Occhionero. Secondo la Procura Distrettuale Antimafia dell'Aquila ci sono consistenti elementi per affermare l'esistenza di un'associazione criminale di natura andranghetista con base tra San Salvo, Campomarino e Termoli. Indagini sfociate nell'operazione Isola Felice in un'ordinanza di custodia cautelare a carico di 25 persone per associazione di tipo mafioso, traffico di stupefacenti, traffico di armi, estorsione, riciclaggio e altri reati a vario titolo con attività estese in altre regioni e fino all'America Latina. Una realtà, stando alle contestazioni, operante sotto legida della famiglia Ferrazzo è composta sia da calabresi che da siciliani, insieme a esponenti locali che si sarebbero affiliati all'associazione ricostruita nel voluminoso fascicolo. Al Tribunale di Larino, primi interrogatori di garanzia, perrogatori a carico di Felice Ferrazzo e dei fratelli Fabio e Mirco Marchese. I tre si sono avvalsi della facoltà di non rispondere perché, come sostenuto dagli avvocati difensori Ruggero Romanazzi e Giuseppe Di Carlo, le carte vanno approfondite per fare chiarezza sull'impianto accusatorio. La figura di Felice Ferrazzo, faccio soltanto una precisazione qualche anno fa Felice Ferrazzo accusato unitamente al figlio di detenzione di armi da fuoco in un locale di Termoli, veniva assolto proprio sulle dichiarazioni del figlio che escludeva qual si voglia collaborazione da parte del padre oggi il figlio cambia rotta e dice che invece il papà era non soltanto a corrente di tutte le sue azioni criminali ma addirittura ne era complice. Quindi sono dichiarazioni di un collaboratore che da poco sta collaborando e che sono da vagliare con molta attenzione. I legali hanno chiesto al GIP del Tribunale dell'Aquila una misura alternativa al carcere e hanno deciso di fare ricorso anche al Tribunale del Riesame. Al di là della contestazione dei fatti reati per cui chiaramente ci sarà un processo e saremo chiamati a rispondere in quella sede ad oggi credo che risulti de facto evidente che non ci siano nel caso di specie le esigenze cautelari perché il pericolo di commettere altri reati di fugo, di inquinamento delle prove non è né concreto né attuale se si tiene conto che gli ultimi episodi contestati risalgono addirittura al 2011. Come stanno vivendo questa situazione? Allora diciamo che i fratelli marchese sono incensurati non hanno precedenti penali quindi non hanno mai vissuto una situazione di questo genere. Abbiamo necessità di approfondire gli aspetti come dicevo prima ma sono fiduciosi del fatto che più in là nel processo ma soprattutto nell'immediato riescono a tornare in libertà. Ci spostiamo all'Aquila adesso dove le fiamme gialle proseguono l'inchiesta sui falsi pagamenti per ottenere i SAL, stato di avanzamento dei lavori. Nel mirino dei finanziari circa 20 costruttori e la stessa inchiesta che vede indagato anche il sindaco del capoluogo Massimo Cialente. Daniela Rosone. Prosegue l'inchiesta della Procura della Repubblica dell'Aquila sulle false certificazioni di pagamento dei subappaltatori presentate da alcune aziende per ottenere i cosiddetti SAL, lo stato di avanzamento dei lavori nell'ambito delle commesse private di ricostruzione di case danneggiate dal terremoto aquilano del 6 aprile del 2009. Nel mirino delle fiamme gialle sono finiti per ora 20 costruttori che sono indagati per una prassi che si utilizzava, quella del falso pagamento, denunciata ormai da mesi da piccoli imprenditori al collasso. Il pagamento, come è nota, è una condizione assolutamente necessaria affinché venga sbloccato dai comuni il saldo dei SAL. Un mal costume, quello di non pagare le piccole ditte, che si è diffuso a macchia d'olio all'Aquila come altrove. Secondo i piccoli imprenditori la norma attuale non basta in quanto concede la possibilità di autocertificazione. L'inchiesta in questione è portata avanti dalla Guardia di Finanza e anche da un pool di magistrati che stanno facendo ulteriori accertamenti bancari e anche interrogatori. Vengono ascoltati anche molti subappaltatori. L'inchiesta vede indagato anche il primo cittadino dell'Aquila, Massimo Cialente, sulla scorta di intercettazioni telefoniche, con l'accusa per induzione in debita, dare o promettere utilità, la cosiddetta concussione depotenziata, in due circostanze, una tentata e l'altra consumata, secondo il PM Stefano Gallo. Nel tentativo andato a segno, Cialente avrebbe il condizionale d'obbligo chiamato il funzionario comunale De Carolis, a sua volta indagato, per ottenere lo sblocco del pagamento di salla alle società Palomar e Costa, che stavano ricostruendo il cosiddetto condominio Cappelli, nonostante le certificazioni sui pagamenti dei subappaltatori non fossero a posto. Già in servizio è il nuovo comandante provinciale dell'arma dei carabinieri a Pescara, si tratta del colonnello Gianluca Di Niro, che prende il posto del colonnello Paolo Piccinelli. Io ho vissuto a Chieti perché mio padre era maresciallo dei carabinieri della regione di Chieti, quindi è stata una strana sensazione ieri tornare alla regione di Chieti, in veste da comandante provinciale, nei luoghi che frequentavo da bambino, insieme a mio padre. Quindi è una bellissima sensazione, è anche orgoglioso di essere qui a Pescara, nella speranza di fare veramente il meglio possibile per la cittadinanza e per la provincia di Pescara. La conosco per quello che ho potuto leggere nei vari documenti del comando provinciale in questi due giorni che sono qui in città. Ho girato l'Italia, quindi conosco le varie criminalità perché le ho combattute e affrontate un po' in tutte le città, grosse città italiane. Colonnello, quali sono le criticità di una città come Pescara? Sbilanciarmi adesso mi sembra un po' prematuro. Sicuramente è una città in cui è molto viva e quindi sicuramente la microcriminalità sicuramente sarà uno di quelli settori in cui cercheremo di intervenire nel miglior modo possibile. So che il comando provinciale fino adesso ha fatto benissimo quindi sicuramente cercheremo di fare ovviamente ancora meglio ma il livello raggiunto dal comando provinciale Carabinieri di Pescara è veramente un livello molto alto e spero di essere in grado di portarlo a livelli anche ancora più elevati. Ripeto, i nostri piani operativi sono tre preventivo, repressivo e relazionale in modo da coinvolgere veramente tutta la popolazione in questo grande progetto di sicurezza che abbiamo qui al comando provinciale e che le forze di polizia hanno in ambito nazionale. Cambiamo argomento adesso perché è stato siglato fra la Regione e Abruzzo e le quattro province l'accordo per il passaggio di attribuzioni e del personale. Presidente Lolli, questa mattina è stato firmato questo protocollo tra la Regione e i presidenti delle quattro province anche per quanto concerne il personale degli enti locali cosa cambia in concreto? Intanto diamo attuazione a una norma di due anni fa, di un anno e mezzo fa che in un modo un po' così, un pochino improvvido secondo me, ha deciso da un giorno all'altro che il 50% di dipendenti delle province dovessero essere considerati esuberi e che il territorio se ne dovesse fare carico. Per noi erano 712 persone in Abruzzo è stata una cosa drammatica perché fin dall'inizio noi abbiamo deciso di fare di tutto perché nessuno di questi finisse per la strada e nessuno di questi finisse deportato in altri territori italiani. Con l'accordo che abbiamo fatto ieri dopo un anno e mezzo di lavoro abbiamo intanto registrato questo risultato importantissimo. Quello che mi interessa dire a tutti i cittadini è che al di là della sorte dei dipendenti ci sono i servizi che questi dipendenti davano e che sono servizi importantissimi prendete le biblioteche, prendete i geni civili prendete l'assistenza e il trasporto dei bambini con disabilità ecco, questi servizi non scompaiono questi servizi adesso vengono riorganizzati dalla regione e vengono naturalmente riorganizzati non è una cosa semplicissima in una dimensione più aggregata è meglio coordinata e magari nel tempo noi ci auguriamo anche offrendo servizi ancora migliori di quelli che si offrevano prima. Ci sarà un risparmio per gli enti? No, no, che risparmio? C'è un aggravio di costi sulla regione perché la regione alla fine di questa storia diciamo si ritrova con 246 dipendenti in più. Parliamo adesso della scuola e del rapporto con il sisma con la sicurezza nelle scuole dopo il sisma dello scorso 24 agosto bene, le scuole materne elementari e medie pubbliche di Sulmona resteranno chiuse perché gli edifici sono agibili ma sismicamente vulnerabili lo ha annunciato il sindaco Anna Maria Casini che sta firmando in queste ore l'ordinanza selettiva che prevede il rinvio di una settimana dell'apertura dell'anno scolastico il 19 anziché lunedì prossimo 12 settembre sette giorni per organizzare dunque la sistemazione di circa 1400 bambini ci spostiamo a Teramo invece sempre per parlare di scuola perché è una rappresentanza di genitori di ragazzi che frequentano le scuole terramani questo pomeriggio hanno incontrato il sindaco Maurizio Brucchi per avere rassicurazione sulla sicurezza dei plessi scolastici a seguito proprio del sisma dubbi che però non sarebbero stati fugati dall'amministrazione Elisa Leuzzo le scuole sono agibili ma non a norma è sostanzialmente questa la risposta che hanno ricevuto i genitori intervenuti questo pomeriggio all'incontro promosso dalla sindaco di Teramo vista la preoccupazione sulla sicurezza degli edifici scolastici in vista della riapertura del 12 settembre sono arrivata da mamma preoccupata vado via da mamma preoccupata questa l'osservazione di un genitore a fine incontro ai nostri microfoni non abbiamo avuto risposte siamo stati anzi bloccati nelle domande che abbiamo fatto è stato deviato il discorso è stato deviato il senso di quello che abbiamo detto noi abbiamo capito le scuole sono agibili ma non sono sicure abbiamo capito che una scuola vecchia già lo sapevamo perché ci siamo informati forse a differenza loro che una scuola vecchia risistemata non può essere antisismica può essere migliorata per il sisma la mia domanda era come mai dopo il 2009 in una zona che fa parte della faglia che è attiva non siano state adeguate le scuole c'è stato risposto sono state controllate 9 scuole su 31 per cui il sindaco spera che non arrivi il terremoto noi tutti speriamo che non arrivi il terremoto se domani arriverà il terremoto non lo sappiamo perché lui non ci può dare garanzie però non vogliono prendere di petto la questione la questione è che le scuole non dovrebbero essere riaperte adesso non prima che vengano fatte i dovuti controlli antisismici perlomeno quello mancano i fondi noi ci chiediamo nei vari milioni elencati così a canzoncina dal sindaco perché prima di fare i lavori non sono state fatte tutte le scuole tutti i controlli delle varie scuole intanto il 12 è prevista la riapertura per quanto riguarda le scuole medie lei che farà? io non mando mio figlio a scuola intanto la provincia ha chiesto di posticipare la riapertura delle scuole superiori prevista per il 12 si deciderà entro venerdì ma al 90% slitta al 19 settembre c'è stato anche un incontro tra il presidente della provincia di Teramo Renzo Di Sabatino il consigliere delegato alla scuola Graziano Ciabanna con i progettisti degli interventi delle scuole superiori destinatari dei finanziamenti scuole d'Abruzzo lavori per circa 5 milioni di euro su 6 edifici scolastici danneggiati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009 il piano è del 2009 ma particolare e non trascurabile scrive in una nota l'ufficio stampa della provincia di Teramo la definizione dei finanziamenti è della fine del 2013 nel 2014 vengono affidati gli incarichi di progettazione nel 2015 dopo i primi rilievi progettuali si rende necessaria una rimodulazione dei fondi sulla base delle oggettive necessità delle strutture insieme con i tecnici dell'ente il dirigente Leo Di Liberatore si è fatto il punto sulle procedure conclude la nota della provincia di Teramo sui tempi e sul livello di sicurezza che si raggiungerà con i lavori di miglioramento sismico inaugurata questa mattina a Montesilvano la nuova scuola dell'infanzia dell'istituto comprensivo di Villa Verrocchio il sindaco Maragno afferma che la sicurezza delle scuole cittadine è massima Pochi giorni all'inizio del nuovo anno scolastico sindaco questa mattina inaugurate la scuola dell'infanzia dell'istituto comprensivo di Villa Verrocchio Sì finalmente inauguriamo quest'opera un'incompiuta un'opera che è stata progettata ben 13 anni fa e che oggi finalmente abbiamo portato a compimento la mia amministrazione ha voluto ripartire da tutte le incompiute non aveva senso progettare nuove opere aveva invece ragione di lavorare per completare quelle già avviate questa è una scuola bellissima dove troveranno posto sei classi ci sono tutti i più moderni comfort sia per quanto riguarda la struttura in sé e sia per quanto riguarda il rispetto di tutte le normative di sicurezza una struttura davvero estremamente accogliente per la quale io devo ringraziare tutte le persone che si sono spese effettivamente hanno contribuito alla realizzazione dell'opera Sindaco a proposito di sicurezza a poche ore dal suono della prima campanella qual è la situazione a Montesilvano anche alla luce del sisma del 24 agosto scorso abbiamo fatto verificare tutti i plessi scolastici e possiamo dire che quest'anno inizia all'insegna della massima sicurezza e della massima tranquillità ci teniamo a controllare che gli spazi che vengono occupati dai nostri figli abbiano le caratteristiche rispondenti a quelli che sono i requisiti di legge e quindi abbiamo avviato già per tempo tutte le procedure e possiamo tranquillamente far suonare la campanella e stare tutti in tranquillità chiudiamo la parentesi delle scuole parlando del primo Riccitelli della stagione di prosa che è stata presentata questa mattina nella sala consigliare del comune di Teramo vediamo sono a dire solamente grazie alla Riccitelli per lo sforzo che comunque ha portato a portare a compimento una programmazione complessa che non è questo per me segno di grande professionalità di serietà non è un programma rimediato per poter passare anche quest'anno come presentarla come un'altra bella bellissima stagione di prosa che sarà portata nuovamente nella nostra città in condivisione con i nostri abbonati i nostri spettatori il nostro pubblico che non è solo un pubblico di Teramo ma dell'intero territorio provinciale regionale anche fuori da regione lo facciamo insieme al direttore artistico Ugo Pagliai al nostro direttore artistico che oramai da 12 anni cura la nostra stagione quindi importanti produzioni attori prestigiosissimi grande letteratura quindi saranno otto momenti importanti da condividere insieme sono molto felice di aver presentato questa stagione perché c'è il divertimento c'è l'impegno c'è il testo famoso il testo semisconosciuto con un panorama di attori e attrici molto importanti da cosa si inizia? si inizia con una famiglia quasi perfetta con Bucci Rosso e poi c'è il grande testo di Edoardo che è il Filomena Marturano naturalmente poi c'è Odio Ameleto che sono anch'io Paola così che è un che è un divertismo devo dire che però questo mi dà la possibilità di fare un ennesimo fantasma perché verrà per volontà divina John Barrymore sulla terra per insegnare a Gabriel Garco come si recita malattie dal 9 all'11 settembre nel borgo di Notaresco invece full immersion nelle atmosfere di Irlanda con la terza edizione dell'Abruzzo Irish Festival l'apprezzata rassegna di cultura tradizioni e tipicità irlandesi in terra d'Abruzzo che quest'anno devolverà il ricavato della tre giorni ai terremotati torna a Notaresco il terzo Irish Festival in terra d'Abruzzo tre giorni tra rievocazione di riti celtici mercatini gastronomia tipica concerti e spettacoli di danze irlandesi quest'anno riconfermiamo gli artisti internazionali verranno i Ramjex dall'Australia che è un gruppo di punta nell'ambito del Celtic Punk poi avremo vari workshop sia di cultura che di scoperta di curiosità poi mercatini a tema enogastronomia a tema birra irlandese direttamente in portata tra gli ospiti anche il cantante storico dei Modena City Ramblers il fondatore dei Modena City Ramblers che abbiamo voluto chiamare perché ci piaceva il concetto di ritornare un po' alle origini e lui è stato il fondatore proprio dei Modena ed è quello che voleva mantenere un gruppo italiano con una sonorità celtica nato tre anni fa all'insegna di un progetto di gemellaggio territoriale tra la regione verde e l'isola di Smeraldo è ormai diventato evento di riferimento del centro sud Italia per tanti appassionati di cultura irlandese non è un classico festival della birra ma è un festival culturale perché c'è tanta cultura ci sono workshop ci sono rievocazioni storiche celtiche c'è food irlandese l'Irlanda che incontra l'Abruzzo è un evento che in tre anni oggi conta migliaia e migliaia di visitatori abbiamo già richiesto dalla Calabria dalla Lombardia dal Lazio tre anni di festival tre giorni di festival quest'anno per la terza edizione un evento che diventa anche una grande iniziativa di solidarietà la sensibilità degli organizzatori permette questo che il ricavato degli incassi sarà devoluto ai terremotati adesso troveremo anche contatti con chi finanziare direttamente adesso vediamo tramite i sindaci oppure con le associazioni del territorio proprio dai terremotati per far sì che il contributo direttamente dal festival alle zone arrivi in maniera acelera apriamo adesso la pagina di sport ovviamente partiamo con il Pescara che oggi ha ripreso gli allenamenti in vista del posticipo di domenica sera all'Adriatico contro l'Inter prima della seduta ha parlato il tecnico Massimo Oddo argomento centrale della conferenza stampa il mercato del Delfino a cui Oddo dà un 10 in Pagella lo ascoltiamo la cosa meno preoccupante è fare occasioni da gol e segnare togliamo il dubbio a tutti per me Baibach è una punta centrale che tutti continuano a dire che è un esterno ma sono convinto che il 95% di tutti quelli che parlano di Baibach non sanno neanche che tipo di giocatore è quindi io l'ho voluto come punta centrale è una punta centrale insieme a lui la punta centrale è Manai ulteriore punta centrale può essere Caprari io sono appostissimo così sono convinto dei giocatori che ho sono contento di quello che ho da sottolineare il fatto che noi siamo il Pescara non siamo il Milan non siamo l'Inter che ha bisogno di una punta va, prende, compra spara 20 milioni e compra la punta ma Bergessio noi l'avremmo preso volentieri a condizioni diverse perché noi siamo il Pescara anche per una questione di equilibrio di spogliatori non possiamo permetterci sia economicamente che per una questione di equilibrio di spogliatori di permetterci di prendere una punta che guadagna il doppio degli altri e quindi a quelle condizioni io non preferisco stare così 10 io do 10 al mercato del Pescara perché sono arrivati tutti i giocatori e quindi va bene così i singoli si mettono a disposizione di un gruppo intero si mettono a disposizione di un allenatore che dà una direzione e loro ci credono quindi questa è la nostra forza però poi devi avere qualità in campo perché tu puoi allenarti quanto vuoi e chiedere quello che vuoi ai tuoi ragazzi ma se poi non hanno le qualità per mostrare quello che provi in settimana tu non riesci a ottenere nessun risultato quindi il fatto che questa squadra abbia fornito due prestazioni due belle prestazioni perché evidentemente la squadra ha qualità ed è forte finiamo in Lega Pro adesso andiamo in casa Teramo perché è stato raggiunto ieri l'accordo per il rinnovo di contratto per il centrocampista Alessandro Di Paolo Antonio che nelle prossime ore firmerà il prolungamento fino al 2018 intanto l'attaccante Antonio Croce ancora cerca il suo primo sigillo in bianco-rosso lo ascoltiamo per il momento non ci faccio non ci faccio caso preferisco più che altro fare la prestazione e riuscire ad ottenere più punti la domenica il sabato quando giochiamo è normale che noi siamo attaccanti il nostro pane è quello fare gol però per il momento va bene così non ho più 20 anni o 30 anni quindi ho giocato a due ho giocato a tre ho giocato da solo quindi per me il modulo è indifferente quello che dobbiamo fare è correre rincorrere gli avversari e poi quando abbiamo palla cercare di giocare dobbiamo vivere questa situazione allenandoci sempre al 100% fare quello che ci chiede che ci chiede di fare il mister e mettersi a disposizione della squadra questo penso che sia il segreto alla fine il lavoro poi alla fine paga Pordenone sicuramente sarà una gara ad alta intensità già da oggi prepariamo questa partita importante per noi un po' con la mare in bocca perché comunque domenica potevamo raccogliere sabato potevamo raccogliere un risultato pieno siamo stati un po' sfortunati abbiamo preso una traversa nel primo tempo due nel secondo tempo un paio di occasioni create verso la fine dopo un inizio un po' così e così perché dopo un minuto e mezzo non è facile ribaltare il risultato però questa è una cosa positiva ripartiamo da quello perché poi dopo il gol elevando un'altra cinque minuti ho visto una squadra che aveva voglia di lottare di rincorrere l'avversario e di provare a vincere poi non ci siamo riusciti però parliamo adesso di calcio a cinque andiamo in casa del Pescara che da pochi giorni è al lavoro e uno dei volti nuovi è Cimanghigno prelevato in estate dall'Asti lo ascoltiamo uno dei volti nuovi del Pescara Cimanghigno che arriva dall'Asti in terra d'Abruzzo con grandi ambizioni arrivi in una squadra che pensa al massimo obiettivo per la prossima stagione esatto arrivo in una squadra che posso dire una squadra vincenti e arrivo anche per vincere qua iniziare una bella stagione con tanti obiettivi e per quello che sono qua anche quello il nuovo che sono arrivati qua a fare lo stesso lo stesso lavoro per alla fine alzare qualsiasi coppa e iniziamo una bella preparazione per succedere questo alla fine arrivi in una piazza ambiziosa in una città calda con tanti tifosi al seguito della squadra arrivi in un Pescara che vuole puntare al massimo obiettivo per la prossima stagione esatto arrivo in una squadra che vuole vincere sempre come ha detto e questo anno non sarà diverso con una città che ha una tifoseria fantastica allora questo ha una motivazione in più per essere in campo e sono molto contento di arrivare qua e andiamo fino alla fine Quali sono le caratteristiche tecniche di Cimanguigno? Vogliamo un attimo parlare delle tue caratteristiche di come giochi in campo Io penso che sono un che tira tanto in porta forza anche la marcatura diciamo che faccio bene in questa marcatura la difesa che fa in miste e piano piano se c'è qualche parte che devo migliorare in ogni allenamento ogni settimana faccio questo Si stanno per aprire le Paralimpiadi di Rio 2016 e l'Abruzzo sarà rappresentato anche dal ciclista Pierpaolo Addesi per lui si tratta della terza partecipazione ad una manifestazione olimpica Pierpaolo Addesi alla vigilia della partenza per Rio terza a Paralimpiade per te una grande soddisfazione porterai ancora una volta i colori del ciclismo abruzzese a questa manifestazione intercontinentale Si non nego che è stata dura perché gli avversari sono stati diciamo all'altezza essere convocato non è stato facile quest'anno c'è un lavoro dietro di 4 anni però comunque il livello si è alzato diciamo l'attività è diventata più grande quindi più persone che la praticano automaticamente è più difficile entrare nella rosa della rosa olimpica però ci siamo riusciti Ora l'obiettivo è quello di riportare in Italia una medaglia Sicuramente l'obiettivo per queste competizioni è sempre quello di riportare la medaglia anche se il mio obiettivo era quella di partecipare a questa Paralimpiade perché comunque ripeto la mia medaglia l'ho vinta partendo per Rio dopo è normale che quando saremo lì si cercherà di fare il massimo Quando si partecipa ad una manifestazione così importante poi si pensa anche al futuro al dopo il futuro di Pierpaolo Addesi dopo questa manifestazione di Rio quale sarà? Ma guarda io sinceramente non lo so ancora quale sarà il futuro perché prima facevo anche una battuta se tornerò con qualcosa di bello da Rio naturalmente non puoi smettere perché sarò sicuramente gasato e sarò sicuramente avrò ancora più voglia di adesso se tornerò a mani vuote non posso smettere perché magari penserò che alla prossima dovrò tirar fuori qualcosa quindi quando smetto sinceramente non lo so questo era anche il nostro ultimo servizio vi ricordo questa sera a partire dalle 21 l'appuntamento con la Lega Pro con Pro Teramo un'ora per analizzare il campionato dei Biancorossi terza edizione invece del TG6 questa sera alle 23 per il momento è tutto grazie e buona serata